Teenage Mutant Ninja Turtles numero 4 pubblicato dalla IDW e in Italia da Panini Comics Parliamone insieme come riassunto per il numero 51 che uscirà questo mese Wabalabadabia bentornati sono Mama Mazzo Bentornati nella nuova e sfolgorante rubrica dedicata alle Tartarughe Ninja In particolare ci stiamo dedicando al recupero di tutti i numeri delle Tartarughe Ninja fumetti Edite da IDW e in Italia da Panini Comics Perché appunto sono veramente poche le persone che conoscono l'esistenza di questo fumetto È un fumetto che vale davvero la pena divulgare È proprio un peccato che poche persone lo conoscono Anche perché essendoci poche persone che lo comprano il fumetto è via via sempre diventato più costoso È sempre diventato più delit Infatti non si trova più in edicola, si trova in fumetteria e in libreria Quindi io spero nel mio piccolo di parlarne un po' di più in modo che chiaramente il verbo si diffonda Oltre ad abbassarsi i prezzi di guadagnare anche un po' di community che ha passione per le Tartarughe Ninja Almeno quanto me Prima di cominciare se ancora non lo avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale Di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video E anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno un guscio E di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero, dalle Tartarughe Ninja in generale Qual è la vostra Tartarughe Ninja preferita Guardate gli altri miei video sulle Tartarughe Ninja in cui c'è un piccolo test psicologico Per capire quale Tartarughe Ninja siete a livello di psicologia comportamentale E soprattutto scrivetemi qua sotto se volete che parlo anche di altri contenuti sulle Tartarughe Ninja Io per esempio sono molto ferrato sulla serie del 2012 Sono abbastanza ferrato Beh, il cartone animato lo abbiamo visto tutti chiaramente Ho una grave lacuna, non ho mai visto la fantastica serie del 2002 Perché in quel periodo non seguivo tanto il mondo nerd E ovviamente potrei parlare con voi dei film degli anni 90 E sì, anche dei remake di Michael Bay Cioè prodotti da Michael Bay, volendo Il numero 3 e il numero 4 sono numeri in un certo senso abbastanza di passaggio Dove sono divisi in due parti Nella prima parte c'è una storia in solitaria di un personaggio E nella seconda parte si continua un po' la storia Senza che però venga aggiunto chissà che cosa alla trama principale Che non ci sia chissà quale evento alla trama principale Se mi seguite sapete che questi video del numero 3 e del numero 4 li avevo già girati Ma per qualche ragione devo averli cancellati Oltre al fatto che sono un coglione Quindi adesso sto ridicendo un'altra volta le cose Spero di non perdermi nulla di succoso che avevo detto la prima volta La prima storia è con Michelangelo in solitaria Che come era abituato a fare Raffaello prima di riunirsi alla sua famiglia Ogni tanto anche a Michelangelo piace girare per i fatti suoi In questo caso sembrava quasi che fosse andato a prendere la spesa per fare la pizza Fatto sta che si imbatte in una festa in maschera Una festa in maschera che è ambientata all'interno di un museo Ora non chiedetemi perché però è così E come sappiamo, come abbiamo visto anche nel brutto film del 2016 Tartorga Ninja fuori dall'ombra Che però comunque ha incarnato bene in quella scena il carattere di Michelangelo Michelangelo è quello che più di tutti vuole integrarsi con il genere umano È quello che più di tutti è empatico È quello che soffre di più la sua diversità rispetto al mondo esterno E quindi quando trova una festa in maschera si può sentire finalmente a suo agio Perché può girare liberamente senza essere visto come un mostro Un po' come noi nerd quando ci mettiamo in cosplay a una fiera dei fumetti fondamentalmente Quindi già di per sé questo messaggio è molto carino da divulgare Come se non bastasse perché poi chiaramente la storia non può andare avanti così in modo così liscio e lineare In questa festa in maschera al museo si imbatte in un gruppo di ladri Che vogliono rubare, non so se è un prezioso manufatto, quello che è, non importa Il fatto sta che si trova coinvolto in questo furto E la cosa bella, mi è piaciuto molto l'impatto tra questo gruppo di ladri Che pensano di essere stati interrotti da Michelangelo Perché anche lui ha degli interessi in questo furto Che sia mandato da qualcuno, da una banda rivale E non riescono nemmeno a concepire che possa esistere una persona pura Che semplicemente per spirito civico, diciamo, per bontà del suo cuore Vuole impedire a delle persone di rubare la proprietà altrui Nella seconda storia invece semplicemente vediamo un inseguimento composto da tre gruppi di persone Un gruppo di persone è un gruppo di francesi che praticano il parkour Come dice lo stesso Leonardo nel numero successivo, il Savant Scrivetemi sotto se sbaglio qualcosa Niente, praticamente è una banda di francesi che viene inseguita da una banda di ninja È molto carina questa cosa perché spesso le persone associano il ninjitsu al parkour Quando in realtà sono l'esatto opposto Vado a spiegare Il parkour serve innanzitutto per allenarsi E quindi ti fa sviluppare dei modi creativi per arrivare da un punto A a un punto B In modo che venga coinvolta l'attività fisica fondamentalmente Quindi vediamo delle mosse spettacolari Come saltare da un palazzo Ma anche fare delle capriole abbastanza inutili Mentre il ninjitsu è esattamente l'arte di arrivare da punto A a punto B Nel modo più invisibile possibile Perché è l'arte dell'invisibilità E questo significa adottare il metodo più semplice per arrivare da una parte all'altra Banalmente se ci sono delle scale il ninja le fa Punto Poi è ovvio che se c'è da saltare da un tetto all'altro Salta il ninja come salta chi pratica parkour Però ecco c'è questa differenza che Specie nei film moderni Sta andando un po' persa E da quando il parkour è diventato di moda Fanno fare tutte queste acrobazie stranissime Anche a dei ninja Quando in realtà il ninja dovrebbe proprio essere invisibile il più possibile Silenzioso il più possibile Quindi dare meno nell'occhio possibile E quindi non fare acrobazie Se sono inutili alla missione Mi piace molto che appunto vengano contrapposte queste due bande rivali Che appunto adottano questo stile di Movenze molto diverse tra loro ma molto simili in altre occasioni Vediamo che chiaramente il ninja Apparterrà al clan del piede perché siamo nel mondo delle tartarughe ninja ovviamente Vediamo che il ninja ammazza, pugnala questo ragazzo francese Per poi scomparire Questo ragazzo francese Le sue ultime parole Dette a Donatello o a Leonardo Sono La guerra sta arrivando Quindi molto probabilmente Nei prossimi numeri Vedremo una guerra tra bande Tra il clan del piede E questo club Questo clan di francesi Dulcis in fundo Proprio nell'epilogo finale Vediamo ancora Vecchio diavolo Che vi ricordo Quel gattaggio rognoso Che è stato mutato Con il mutageno Lo stesso mutageno Che ha mutato le tartarughe ninja Che è in combutta con Baxter Stockman Baxter Stockman vuole Che venga rapito Splinter O eventualmente anche le tartarughe Per studiare il suo sangue Perché nel suo sangue c'è il mutageno Che gli permette di mutare eventualmente altri animali Per i suoi scopi militari Per i suoi scopi ovviamente di introiti monetari E vuole rubare Splinter per il suo sangue Perché il mutageno è andato perduto Nella colluttazione in cui appunto Sono state create Splinter e le tartarughe ninja E non vuole chiederlo di nuovo Al suo fornitore Perché ne è terrorizzato Il suo fornitore è Il generale Krang Vi ricorda qualcosa come nome Quindi ha ben ragione Di essere terrorizzato Vediamo che Casey Jones Prende l'annuncio di April Per delle ripetizioni Quindi April e Casey Jones Si conoscono Si conoscono in autonomia È molto carino Perché in questa versione fumettistica È Casey Jones A conoscere le tartarughe prima di April Ed è Casey Jones Che poi le introdurrà April Alle tartarughe È una nuova chiave di lettura Che ha dato anche un po' Una ventata di aria fresca Dato che Vecchio Diavolo Ha bisogno di un esercito Per andare a scovare le tartarughe E Splinter Tanto che sono molto allenate Baxter Stockman Gli dà questo I Mauser Quindi nel prossimo numero Vedremo lo scontro Tra le tartarughe ninja E i Mauser Uno degli scontri più epici E più riprodotti In tutte le versioni Delle tartarughe ninja Dal fumetto originale Dell'84 Al cartone dell'87 Al cartone del 2002 Che ok Non l'ho visto tutto Ma l'ho visto E ovviamente anche Nel cartone del 2012 Quindi ne parleremo Io vi ringrazio Per avermi seguito fino a qui Come sempre con l'inchino E con il mutuo Vi saluto Vi dico arrivederci Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video